la peggiore delle tre scese in acqua mentre la Veneto Banca Montebelluna rimane avanti con la sua Greta Costa e adesso la quarta in acqua, è riuscito Pavola, Maria Elena, Padova Maria Elena Gandini, Lave Maria Maria Callas, vediamo l'interpretazione in acqua di Maria Elena Gandini, classe 96 primo anno categoria Juniores bella, molto fluida, molto elegante, l'abbiamo detto che è il primo anno Juniores ma è stata per tre anni il Nazionale Junior adesso fa parte della Nazionale B ed ha preso parte di recente al trofeo Fina World Trophy di Pechino un gol del sincronizzato vicino a me Paola Celli a commentare le gesta di queste ragazze in campo perché lo ricordiamo 33 titoli, la prima nel gruppo della Nazionale, quel gruppo della Nazionale nel 1991 a vincere una medaglia agli europei insomma c'è solo da lodare, da lì è partito tutto sì, un gruppo di lavoro incredibile, da lì con tutta la squadra abbiamo condiviso momenti di gioia e di dolore di gioia per la medaglia della squadra che abbiamo appena detto, di dolore e doppio lo perdemmo con Giovanna Burlando però nel complesso è un buon ricordo di quella un bel ricordo sì, dall'inizio a tutto insomma poi tante medaglie adesso ovviamente per le nostre nazionali siamo fermi al 2009 per quanto riguarda gli assoluti nel mondiale ma un mondiale che ha le porte sì, sì, gli europei abbiamo vinto tante medaglie medaglie, bronzo e argento quindi assolutamente la squadra è andata avanti assolutamente sì, l'ultimo è stato proprio il bronzo nel combo a Berlino nel 2014, l'altro bronzo in Doven, sempre nel combo nel 2012 a Budapest nel 2010 c'è stato il quarto giusto a squadre insomma comunque risultati importanti, soprattutto la crescita della nostra nazionale, del nostro movimento bene anche per lei le posizioni di verticale un esercizio molto più peccato questo avvitamento un po' lo ha perso ma un esercizio molto più elegante, più leggero abbiamo detto ogni atleta, soprattutto nel singolo può esprimere le sue doti interpretative lei è assolutamente molto elegante, molto dolce questa scelta musicale adatta proprio a permetterle di esprimere queste sue caratteristiche, gli avvitamenti era la parte che in effetti soffrì un po' di più le abbiamo viste fare bene per tutto l'esercizio anzi veramente esaltati a metà routine peccato questa conclusione alla fine è un leggero fuori asse però guardate che bella apertura, che bella altezza sicuramente è una buona interpretazione da parte della di questa atleta Maria Elena Gambini ha parlato di appuntamenti con la nazionale lo ricordiamo che a marzo all'inizio e a metà Germania Open e Parigi Open uno dedicato ci andrà alla nazionale B quello di Germania e a Parigi a nazionale A poi ovviamente l'appuntamento fondamentale sarà quello dei campionati mondiali assoluti a Kazan in Meruze il 25 luglio qua inquadrate le allenatrici ovviamente le presentiamo Giove Paccaniella sulla destra che ha accompagnato in questo momento sulla pedana e Maura Vistella 81-633 si va a inserire al terzo posto l'atleta della pubblicito quadro Maria Elena Gambini applausi per lei primo posto rimane la Veneto Banca a Montebello